E' morto nella notte Vincenzo Salemi, il pensionato originario di Riesi, investito ieri da un tir in via Venezia a Gela. L'uomo, subito dopo l'incidente, era stato trasferito in elisoccorso, in coma farmacologico, all'ospedale Santeria di Caltanissetta, per essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Purtroppo non ce l'ha fatta, troppo gravi le ferite riportate dall'impatto con il mezzo pesante. Per causa ancora da accertare, l'uomo sarebbe uscito da una strada secondaria e sarebbe stato travolto dal mezzo pesante. Sul posto è intervenuta la polizia per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell'incidente. Verosimilmente sarà aperta un'inchiesta per fare luce sul sinistro e per individuare eventuali responsabili. L'uomo, per diversi anni, era stato direttore dell'ufficio postale di Caltanissetta e lavorò anche a Niscemi.